Sul calcio, no? Perché siamo tutti tifosi? Avete visto oggi cos'è successo a Mancini? Ma gliel'ho già chiesto io. Le hai chiesto ma non l'ho sentito però io. No, ma sono cose che sul campo possono accadere. È sbagliato metterle anche sui giornali, renderle pubbliche sul campo. Quindi è sbagliato Mancini a parlarne? Penso di sì, assolutamente. Ma è un milanista che lo aspetta. Grazie a tutti.